sei all'ascolto di k radio un'emozione nuova www.letteralmente.info dal passato un nuovo presente k radio bologna chiocciola gmail.com allora il progetto di letteralmente radio che si chiamava radio yoga network e si chiama tuttora in realtà è un progetto molto semplice prende nome dal sito internet www.letteralmente.info dell'istituto culturale sole luna quindi radio yoga network e letteralmente radio che poi sono la stessa cosa infatti spesso volentieri usiamo come nome letteralmente radio yoga network e uno slogan di letteralmente radio è una radio con tante radio dentro include all'interno anche il progetto k radio e k radio bologna chiocciola gmail.com intende essere diciamo l'aspetto più culturale divulgativo parlato di letteralmente radio yoga network ripeto www.letteralmente.info e potete ascoltare la radio in streaming su letteralmente.info ci sono le varie modalità per poterci ascoltare in streaming 24 ore su 24 7 giorni su 7 i programmi in random oppure andate su speaker cercate k radio su speaker o anche sempre su letteralmente.info oppure scrivete a k radio bologna chiocciola gmail.com vi mandiamo i link diretti per poter scegliere quali trasmissioni ascoltare e quando ascoltarle ad esempio la trasmissione di paola scegliete voi quando ascoltare paola e quale puntata della sua trasmissione ascoltare andate su speaker oppure sulle maggiori piattaforme di podcast difficilissimo da pronunciare quindi apple podcasts perché quella s finale è impossibile per noi italiani da pronunciare google podcasts spotify tune in ci trovate su tutte le maggiori piattaforme cercate k radio cercate letteralmente radio oppure ripeto scrivete a k radio bologna chiocciola gmail.com venite sul sito letteralmente.info per qualsiasi difficoltà noi siamo qua abbiamo anche un gruppo whatsapp potete chiedere a paola di aggiungervi e così rimarrete aggiornati sempre su quello che pensiamo proponiamo facciamo insieme ci diamo il buongiorno insomma un gruppo whatsapp abbiamo anche un gruppo facebook cercatelo k radio e iscrivetevi ciao ciao